eccoci qua arrivati all'origine al Vaimutul ed è il momento della figliole di Gerdi lo vedete all'opera finalmente o non finalmente ma oggi sappiamo che è stata una giornata dura no ragazzi sì, figliole oggi non ce n'è, ci sono delle ponte, tipo quella che ho ignorato io cosa succede? eh niente, io ero in giro, abbiamo preso una roccia, una roccia che era proprio in traiettoria e casualmente in color sabbia proprio quindi non la vedevamo, io l'ho sentita, l'ho vista l'ultimo e poi l'ho sentita molto bene però è andato molto veloce, sicuramente infettivamente si riuscita allora e fortunatamente lì adesso sto un po' evitando i danni sto facendo di componente per salvare i pezzi qua ma la tappa com'era oggi, veloce? ma sì, era parecchio veloce, andavo velocissima, andavo parecchio veloce il problema è che intanto ci sono queste rocce veramente infettizzate nella sabbia e sono un po' tardi però nulla, a me è andata benissimo perché ho fatto quasi un piccolo danno e poi ho dovuto continuare senza rocci perché ho un po' riuso però in qualche modo l'ho portata bene vabbè si è stato un po' abbiamo avuto un po' un neo negativo perché vabbè anche il pilota dietro di me ha fatto nessun incidente però lì è andata peggio, adesso siamo ospedale e speriamo bene dai mi da fastidio questa? mi avete beccato? ovviamente facevo il bicomponente fortuna che l'ho appena dato ma cosa ci pensa la moto da polio a volo che hai fatto? oh incredibilmente non si è fatta quasi nulla e tu sei a posto è tutto? oh io una volta ho giocato al jolly perché niente, 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 zero però la moto col teodino da sistemare ce l'ha se passi di qua lo vedo c'è il carbonio vediamo, vediamo ho messo il bicomponente qui sul carbonio e adesso devo fare ancora... devo rifare un attacco che supporta proprio l'alloggio per il roadbook il roadbook era tutto contorto e storto l'ho raddrizzato ma però se voto l'ingranaggio è il motorino dentro quindi non so che non riuscivo a salvarlo stavolta però vabbè dai ma senti siete arrivati visto col buio però quasi tutti è stata molto lunga oggi in tutti i sensi veramente non vedevo l'ora che finisse dopo tutti questi casini però bene dai quanta giornata in più portata in cantiere adesso ovviamente io il tempo che ho perso a soccorrere il mio amico verrà tolto dalla generale quindi... sei già andato a fare richieste di questo? ma si in automatico quando noi diamo l'allarme poi loro controllano le nostre tracce ho fatto una richiesta di... cioè una prassi praticamente toglieranno il tempo in cui sono stato fermo e poi dopo di questo vediamo come siamo messi dai comunque direi che è un'altra giornata portata a casa io vado a fare il mix qua allora se non vi dispiace perché è notte devo fare ancora un sacco di lavori grazie a tutti lasciamo lavorare il nostro Gerry che domani avrà un'altra lunghissima giornata ciao